Ora definire l'accordo per due motivi. Uno dei tre gruppi interessati a rilevare la società o ad integrare la compagine nazionaria gradirebbe avere Fabio Pecchia in panchina. L'ex tecnico di Verona e Juve Under 23 vanta tra l'altro atavici rapporti umani e professionali con il DS Bocchetti. Se sfumasse questa opzione ci sarebbe il via libera per il campione del mondo che come anticipato dalla TGR ha avuto un rendezvous col presidente Sebastiani lunedì scorso. Il nodo legato alla richiesta di un contratto biennale sarebbe in parte superato da una possibile via di mezzo una sintesi tra le idee di Oddo e le esigenze del club. Un contratto di durata annuale ma con opzione per il secondo legato alla permanenza cadetta. Se in questi due giorni non ci saranno sostanziali novità nell'assetto societario ci sarà quasi certamente il via libera all'ex Perugino che da almeno tre mesi è nei radar di Sebastiani. Una scelta che dovrebbe rivelarsi vincente. Oddo è un tecnico di elevato spessore, ha solo bisogno dei giocatori giusti per esaltare le sue idee tattiche. Lui non gestisce ma crea. Non basta avere i pennelli per essere un pittore e in passato il Pescara ha avuto diversi imbianchini.